cominciamo subito prendendo un video ad esempio io ho fatto un video mio così e ho messo una stellina sul dito così possiamo tracciare il movimento con track motion che andiamo qui su finestra in italiano e tracciatore dovrebbe essere in italiano e premiamo qui e ci compare questo quadratino qua doppio che noi possiamo anche ingrandire uno all'altro e possiamo mettere se dobbiamo tracciare posizione, rotazione e anche scala io metto solo posizione quindi ora andiamo qui facendo play così segue il nostro dito perfettamente come nel caso di un video mio che ho fatto il dito che parla con la bocca ok una volta fatto questo andiamo su layer cioè livelli nuovo, solido ci mettiamo un colore che vogliamo così ce lo metto qua sopra qua andiamo edit target modifica target qui vediamo red solid l'ultimo solido livello che abbiamo creato noi premiamo ok e facciamo applica facciamo a6x e y ok vediamo che ce lo rende abbastanza grande noi lo rimpiccioliamo e vediamo che segue il nostro dito questo a cosa serve questo serve perché noi adesso andiamo sul nostro livello red solid solido rosso apriamo qua dalla freccetta andiamo sulla posizione e vediamo che ci ha aggiunto il keyframe noi premiamo qui su posizione e premiamo mela c oppure ctrl c nel windows ora non possiamo andare direttamente su particelle illusioni e mettere i nostri dati che abbiamo copiato perché non funzionerà cosa bisogna fare? bisogna aprire text edit oppure qualsiasi programma di modifica di testo eccetera allora facciamo ctrl v oppure mela v nel mac andiamo qua sopra qui vediamo i vari frame registrati e noi dobbiamo cancellare transform transform così lasciamo solo posizione ora ctrl a oppure mela a in mac e di nuovo ctrl c oppure mela c qui possiamo vedere che ci sono 15 frame al secondo esportati da after effects ora possiamo anche chiudere e adesso facciamo import a position data prendiamo after effects 6.0 oppure 5 eccetera attiviamo le prime due opzioni e facciamo ok ora vediamo che ci fa il nostro movimento ora qui vediamo che ovviamente il nostro filmato va oltre va a 241 possiamo modificarlo qua 241 e adesso andiamo qui su impostazioni e mettiamo 15 frame al secondo premiamo ok e andiamo qui su registra quicktime oppure avi nel caso del oppure scegliamo i vari formati anche in png oppure jpeg io scelgo il filmato quicktime perché così abbiamo già i frame al secondo adesso andiamo a salvarlo in scrivania mettiamo a a a facciamo salva qui come codec io scelgo il png best al massimo migliore e qui mettiamo sempre 241 e salva anche l'alfa premiamo ok così ci rende file rendering di tutto il filmato ecco una volta finito dobbiamo andare su after effects e importare il video comunque per chi non conoscesse particelle illusione lo trova sotto nelle informazioni del video che elencherò io comunque ci sono varietà di effetti moltissimo possiamo anche andare a aprire una libreria nostra con vari effetti non so proviamo un altro creature eccetera ci sono varie esplosioni eccetera ok ora andiamo su after effects qui possiamo cancellare il nostro solido ecco ed importare il nostro video appena fatto ok ok lasciamo tutto com'è trasciniamolo qua qui sopra ok torniamo all'inizio e noi possiamo vedere che l'effetto non è ottimo cosa fare allora qui possiamo cambiare la la modalità di dei livelli chi non li vede con le azioni basta che che preme qui e compare di solito io uso add cioè aggiungi in italiano che si aggiunge così non si vede quell'effetto di nero oppure si possono usare vari tipi di 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 modalità oppure luce eccetera ma di solito uso sempre aggiungi che è il migliore vediamo l'effetto assieme a questo tutorial spiegherò anche la nuova funzione di After Effects CS5 integrata che è questo qui roto brush allora come funziona ovviamente qui non compare niente noi dobbiamo fare doppio clic sul nostro filmatino così ci apre un altro livello adesso ci compare il nostro pennellino la croce se noi andiamo a fare così vediamo che ci funziona come la selezione veloce in photoshop in pratica faccio anche qui non faccio sulla maglietta perché ovviamente me lo confonde con lo sfondo adesso perché anche perché il video è stato fatto con la webcam e inoltre non ha molta qualità quindi sì basta vedere qua che è ottimo come funziona per la e qui vediamo che ce l'ha aggiunto anche come effetto quindi possiamo farlo più curvo o meno inoltre qui possiamo vedere le varietà qui in alfa qui con la selezione e qui con la maschera veloce questo funziona più o meno come una maschera di livello si può invertire e si possono fare molte altre cose questa è una nuova funzione integrata nell'after effects cs5 con questo ho finito grazie ciao alla prossima grazie a tutti